14 maggio 2022 Messaggio della Madonna di Anguera Una straordinaria pioggia di grazie cade su di voi se mi ascoltate. Cari figli, amate la verità e difendete ciò che è di Dio. La mancanza di amore per la verità porterà molti uomini e donne alla perdizione. Sono addolorato per ciò che vi sta accadendo. Non allontanatevi dal sentiero che vi ho indicato. In Dio non ci sono mezze verità. Attenzione a non farsi ingannare. Il mio Gesù vi ama. Ascoltatelo. Avete la libertà, ma non lasciate che la vostra libertà vi allontani dalla via della salvezza. Pentitevi dei vostri peccati. Cercate la misericordia del mio Gesù attraverso il sacramento della confessione. Io sono la vostra madre e voglio vedervi felici qui sulla terra e poi con me in paradiso. In questo momento vi sto facendo piovere una straordinaria pioggia di grazie. Andate avanti senza paura. Questo è il messaggio che vi do oggi nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Siate in pace. Grazie per avermi permesso.